A voi tutti ben ritrovati cari amici di Agronotizie, un saluto dal vostro Giuseppe De Vittis. C'è sempre l'anticiclone, lui sempre ci guarda anche se si allontana un po'. In effetti riusciranno delle perturbazioni a indebolire l'anticiclone già nell'immediato. Una nuova perturbazione infatti sta transitando sulla penisola italiana, velocemente al nord, poi soprattutto al centro e al sud con piogge rovesce temporali. Seguirà una fase più tranquilla al centro-nord, vedete, con refoli più freddi però da nord-est. Ancora entro il prossimo weekend un'altra perturbazione, un minimo di bassa pressione, si andrà ad isolare verso la Sicilia e dispenserà pioggia ancora una volta, in particolar modo tra la Sicilia e le regioni meridionali. tempo un po' più tranquillo al nord, ecco perché l'anticiclone anche quando arretra comunque è sempre lì pronto a imporsi in un certo senso, però due occasioni autunnali ci saranno, questa immediata e poi nel weekend. E poi di nuovo tornerà la pressione su livelli abbastanza elevati e il tempo sarà abbastanza tranquillo. Per il momento io mi fermo qui, cari amici, buon proseguimento di giornata. Arrivederci.